nelle fasi della vita. Senso di inutilità, incapacità di amare, di sentirsi amati, la frustrazione, l'abbandono sono i sintomi della depressione, una malattia subdola che si presenta a diversi livelli e che per troppo tempo è stata considerata solo un disturbo psicologico o peggio ancora, una sorta di vigliaccheria nei confronti del pirandelliano, vedersi vivere. E invece una patologia seria, spesso fisica, almeno nelle forme più acute. In vista della giornata europea della depressione, il terzo sabato di ottobre, ad Ancona si è tenuto un incontro di aggiornamento ad alto livello scientifico e sono giunte anche le voci di una recente scoperta. Ricercatori canadesi avrebbero scoperto una stretta relazione tra i suicidi, dovuti il più delle volte a depressione, e il DNA. Questi sono dati ancora molto preliminari, insomma. Noi sappiamo che c'è una forte componente genetica che naturalmente risente di influenze ambientali notevoli, quindi insomma come in tutte le malattie, il risultato è l'insieme di un substrato biologico probabilmente alterato e quello che succede nel mondo circostante. Secondo questi studi ancora da confermare, nel cervello delle persone morte per suicidio vi era abbondanza di quelle specifiche proteine che interagiscono con il gene che regola gli stati d'ansia e di stress rispetto a chi è morto per cause naturali. Ma al di là di questo, l'approccio anche informativo con la depressione deve essere rivisto. Bisogna evitare di sottovalutare, come dico spesso, questo fenomeno che invece, come lei ha detto, intanto è la terza causa di disabilità al mondo e poi una forte incidenza di mortalità sia perché il 15% purtroppo delle persone si suicida, cioè realizza il tentativo, e poi c'è un forte incremento delle patologie cardiovascolari. Il male oscuro, il problema del benessere di questo secolo era stata definita. Niente di più falso. La depressione e malattia invece da sempre esistita, al punto tale che Seneca, nel De Tranquillitate Animi, così la descrive. Il male che ci tormenta non è nel luogo in cui ci troviamo, ma in noi stessi. Noi siamo senza forze per sopportare una qualsiasi contrarietà, incapaci di tollerare il dolore e impotenti a gioire delle cose piacevoli. Forse una delle più incisive e moderne definizioni. E cambiamo ancora argomento, si è parlato di incidenti sul lavoro in un incontro tecnico a Santa Vittoria in Matenano. Vediamo. Grazie. Grazie. Grazie.